La Commissione per le difficoltà degli uffici è offerta completa conoscenza per sostenere i servizi di maggiore difficoltà. La linea partecipativa, questa, che ha trovato un buon piano desiderio di tutti i cianciani, C'è Marco, Berlino, Ruggeri, Santini, Filippo, Parlani, Bartolini, Bianchini, Cappelli e Cipri. Rivolto un pensiero di un corte interno di una questione. La relazione sulla giustizia a parte della Presidente della Costituzione è partita da un rinnovato ringraziamento al Presidente della Repubblica dell'Unità della Costante Svela, da l'Università della Costituzione.